Cari amici, è Lucio Fulci che vi parlo. Vi ricordo che la paura è il più antico sentimento dell'uomo e anche il più liberatorio. E la musica che avete ascoltato, la musica della paura, è una musica liberatoria. Perciò vi auguro di ascoltarla mille volte. Buona musica della paura. Grazie a tutti.